è una bella sventagliata e parmigiano reggiano prodotto italico è fatto dai parti Reggio Emilia e Parma e allora ho parmigiano un pomarolo bello smunto e si è opaco un po' e questo è un pochino opacizzato e quando si cucina ho bicchiere vino o vino rosso ai chianti o prodotto italico mamma mia un pomarolo va smunto va sfinito o pomarolo ciliegino come lo chiamano quelli bravi una sventagliata di peperoncino già la diede o turbo o prodotto italico sono fatti a maranella a stoccarda o pomarolo ciliegino è fatto a napolè o chianti è fatto la valla del chianti in toscana ora lo spengo lo faccio riposare e poi lo faccio a copiare con opacchero opacchero carofalo è sempre prodotto campano credo ma secondo te sto male a domenica è fatta per riposare per mangiare per fare tag e tag e tag e tag e per andare a trovare la matriarca nel pomeriggio ma parati giusto di male ma viva la vita ma tutta la vita ma bella per te la semplicità casalingua della cucinata domenicale a mangiata a pennica a roma a famiglia matriarcale parati giusto ma no 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 no